L'arte è uno strumento di grande potenza e quindi può avere in questo momento un grande valore nel trasmettere l'importanza di riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo, quindi sui diritti umani, ancora sulle discriminazioni razziali, sulle violenze, sulle grandi questioni ambientali, quindi l'arte come mezzo e strumento per riflettere su questi temi, ma anche per avvicinare i giovani e la cittadinanza a capire che questi temi sono temi che vanno affrontati. Il progetto Genesi è un progetto molto particolare perché unisce aspetti diversi, da un lato la proposizione di opere d'arte che vengono fruite dal pubblico, dall'altro la collaborazione con l'università, con dei cicli di lezione, 12 cicli di lezione, che riflettono proprio su queste tematiche, quindi attraverso la collaborazione di intellettuali, filosofi, sociologi intellettuali che hanno affrontato e affrontano tutte le questioni legate ai diritti umani, e quindi portano a riflettere un pubblico che è impegnato. E il terzo elemento è che attraverso la collaborazione con il FAI si portano gli studenti a vedere le opere e ad ascoltare le riflessioni attorno alle opere, quindi educazione per i giovani. Quindi è un progetto molto particolare perché unisce aspetti diversi, quindi la proposizione delle opere, i cicli di lezioni da parte dell'università e attraverso il FAI anche la condivisione delle riflessioni con gli studenti.